salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale eccoci qui di nuovo con sea of solitude prosegue la nostra storia la storia di Kay andiamo avanti e vediamo se riusciamo a raggiungere Jack il suo boyfriend visto che apparentemente anche a lui sono successe brutte cose pare di no diciamo che abbiamo visto come se avesse una doppia ok appunto i nostri amici e io ho pensato mi odio amici ok i nostri amici 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 cosa? avevi parlato con noi quasi ogni notte altrimenti non avessero amici amici mi odio amici? io amici mi odio amici mi sonouto ma sembra mi piace non essere con persone questi giorni guy questo è un po' figlio mi sembra amici mi sembra è assola come non succede e non credo altrimenti ti studiato sua lavacione tu hai avuto molto potremmo potremmo solo bisogna dawgare prima Damos Andiamo giusti? Spero di sì Ok non lo so No dobbiamo andare di là Scusate Scusate Damos Aia Porca puttana Ma se stanno arrivi alla faccia Ste baldracche Aspetta un attimo Aridate ma la faccia Attenzione Ruba la faccia e se ne va Vai così Vai così In dribbling Veloce Veloce per piacere Che non è che dobbiamo sta qua Fa sopra e tu sotto Sei anni Daie Occhio Ok Jack He's acting so weird It's starting to scare me Sa di familiare questa cosa La madre e il padre Ah ok Un po' di Magino sia stato depresso Qua c'è Qua c'è questa strada Perché Ci sarà qualcosa Immagino di sì Ah no forse si passa da qua Oddio non lo so Perché da qua non si passa Se volessi andare lì Ok no Non si passa da qua Se vogliamo andare Quindi dobbiamo per forza Passare qui sopra Ok cerchiamo di rubarci di nuovo Sta cosa Attenzione Là Vai 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 Occhio Immagino di dover passare qui dietro Dai 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 Là State calme Voi potete svolazzare Noi no Abbiamo delle problematiche Dal punto di vista Motorio Nei vostri confronti Quindi Piacere Vai Ok per un pelo Ok Ok Ai È circondato da Eh Eh non mi servirebbe La faccia per squagliare il ghiaccio Aspetta dove La trovo oddio basta cliccare qua in realtà Immagino Ah no forse Posso Scusa posso andare dall'altro lato Ah si Ah eccole qua Eccole qua Ahia però sono tante Damos È soltanto ed è complicato Cerca di andare dietro 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 Ok Ah e si squaglia anche Ok Quindi sarà sempre più difficile C'è una piccola finestra di Ok Eh per andare dall'altro lato però Forse da qua Oh merda Si peggioriamo la situazione nel senso Aia Quelle stanno là Quindi si ogni tanto Sfriva di Arca puttana Un po' di Eh niente Dai Depressione Immagino Sta di fatto che noi qua dobbiamo un attimino cercare di Veloce Veloce Vai Ok Ok So you're not fine That's ok That's not the point Without me You would be happy I would be alone Without you I would be lost That's not true I lie in bed Every day Asking myself Why should I even bother getting up Then I go to work It seems fine And then suddenly I hate Everything That's ok That happens to everyone Even me This thing It's not about you Ok Ok What if I'm really really not ok Let me help you What if You can't help me Ok Listen to me I need to figure this out on my own I can't do that if you're in my life You need to let me go Aspetta Noi cerchiamo di avvicinarci Comunque Vediamo Se possiamo fare qualcosa I need to work on myself now Without leaning on someone else We both do Do you understand And Kay No 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 I can't figure this out Don't leave me alone Space Jam Let go of me Let go of us And Kay Take care of yourself Take care of yourself E anche il trofeo crollo Immagino sia relato a tutto questo Che ha passato comunque Oh crollo di Jack Non saprei Possiamo Eh no non ho capito Devo fare qualcosa scusa Sbalzato in acqua E siamo stati divorati dal mostro Ok quindi immagino che dobbiamo Andare avanti Ma c'è questo che ci blocca No che ci blocca ma che ci impedisce Andare avanti Eh se vedete l'obiettivo siamo noi Non so se devo provare ad arrivare al faro Immagino di sì Anche se il mostro rimane qui nei paraggi Però Ci proviamo Ok 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 infatti non riusciamo né a saltare né ad essere un po' più agili io non ero è bene tutti abbiamo buoni giorni così anche io beh, è stato un po' più che solo un buon giorno è bene siamo insieme questo significa qualcosa è vero non ero non ero sempre a voi ho prometto spara segnale luminoso ok ah io lo lancio a lei eh però è lei che non sta bene ok quindi risparo un attimo a lei tanto per saltare e c'è ancora no ok aspetta che te risparo vai 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 eh sì quindi praticamente abbiamo con noi sia il mostro che questa ragazza che ci aiuta ci fa da... non da guida ma... aspetta aspettiamo che torno ok 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 vediamo vediamo si adesso c'è la curiosità di capire no si poi da bisogna bisogna in realtà in realtà Jack non si è ben capito se semplicemente si sono lasciati e ognuno per la sua strada o se ha fatto una brutta fine Jack onestamente non l'ho ben capito da come è caduto in acqua da come è caduto in acqua ehi be patient please sembrava come se si fosse lasciato andare però io controllo sempre se si sa mai se c'è qualcosa da recuperare ma immagino ormai posso lanciare adesso mamma di te dove sto ho salito si ok arrivo aspetta vai 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 oppela comunque ragazzi spero che il titolo mi sia garbato vi stia garbando non so quanto per quanto ancora ne abbiamo perchè non dovrebbe essere comunque lunghissimo eh insegnamenti dei genitori anche nooo nooo for the first time for the first time i don't feel lonely i can't lose you it's not about loss it's about change nooo 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 vediamo se nooo 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 l'obiettivo l'ambiente rispetto alla natura morta il cubo cose l'ambiente si si qui su nooo si io ho nooo 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 no nooo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi se è una cosa un po' più introspettiva o se mi sono perso qualcosa io? No, però andiamo giusti perché è fatto a mo' di viaggio anche la lettura dei titoli di coda. Non so se c'è altro da vedere. Se possiamo trarre le nostre conclusioni mentre proseguiamo questa camminata penso di sì. Perché in fondo abbiamo vissuto questa avventura della ragazza Kay che comunque abbiamo visto un po' lottare appunto contro i suoi mostri interiori su quello che ha vissuto. E' che molte persone vivono quotidianamente, possono attraversare durante l'arco della loro vita sia dal punto di vista del magari degli atteggiamenti. A volte abbiamo visto con il fratello troppo egoistici senza stare lì ad ascoltare le persone che ci stanno di lato. Se ne accorta dopo anche con i genitori quando ha detto come fanno ad essere così vicini e non ascoltarsi. Ha vissuto il... Diciamo il rapporto tormentato. Ok, sentirsi bene, sentirsi meglio, sentirsi meglio, sentirsi bene. E il rapporto tormentato tra i due genitori che si amavano ma comunque hanno preferito evidentemente... Non stare più insieme perché era la cosa giusta ma... Ok. E anche questo secondo me sei pronto magari è quello che ti... Un po' il messaggio come dire sei pronto a quella che è la vita che ti può mettere davanti... Ti metterà davanti, no ti può mettere davanti, ti metterà sempre e comunque davanti a momenti difficili nella vita di ognuno di noi, di ognuno di voi, di chiunque c'è. Ci sono momenti difficili, ce ne saranno sempre. E quindi è possibile anche che sia questo il messaggio, il fatto di... Cioè il messaggio è quello che possiamo anche capire, quello che ognuno di noi può dedurre dal titolo. Ci sono momenti difficili, delle sfide da superare però come ci fa vedere alla fine tutto si supera. La vita è una sfida continua, è un'avventura che può essere piacevole o meno piacevole ma... La vita è questa, ce n'è una, quindi dobbiamo sfruttarla al meglio delle nostre possibilità e cercarla di renderla il migliore possibile. È stata una bella avventura come detto, abbastanza semplice nel senso dal punto di vista del gameplay come detto era molto... Era una narrativa e il gameplay accompagnava anche le fasi di gameplay dove dovevamo raccogliere quei piccoli parti di ricordo per completare il puzzle. Però è bello, è bello il, tra l'altro, Criterion Games, quelli di Burnout Paradise. Comunque, il titolo a me è garbato. Come detto, nella sua semplicità comunque ha trattato tematiche importanti, tematiche che... E... ok, è normale questa cosa? Si è rialzato il mostro nella barchetta? Non saprei, signori, non saprei. Io spero che sia garbato anche a voi, ragazzi. Nei commenti fatemi sapere la vostra, quello che potete trarre voi da questa storia. Però, come detto, ragazzi, bisogna sfruttare questa vita. Ce n'è una, cercarla di vivere al meglio e cercare di superare le sfide che ci metterà davanti, belle o brutte che siano, perché capiteranno sempre momenti difficili. Bisogna cercare di superarli al meglio delle nostre possibilità, magari facendoci forza anche con le persone che ci stanno intorno, perché, come detto, non si è mai soli. Quindi, ragazzi, ci vediamo al prossimo appuntamento con le prossime serie, grazie a chi ha seguito Sea of Solitude in mia compagnia. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Seguitemi anche su Instagram, Facebook e Twitch per le live. Saluto a tutti da Quel Taleale.